Bene, allora siamo soddisfatti del risultato perché 7 pari raggiunto in extremis ci premia ci premia un pochettino perché come mi aspettavo la prima di campionato presenta sempre delle incognite su magari giovani che sono chiamati a impegnarsi diciamo come quelli che debbono fare e soffrono un attimo di timidezza e quindi i primi due tempi siamo praticamente stati a guardare poi diciamo un mix con i nostri anziani mostres in testa diciamo a nuovo con calma siamo riusciti a mettere più in difficoltà nella seconda metà partita più in difficoltà la squadra ospite che verifica di Reggio e diciamo che poi alla fine il pareggio ci sta anche se è nato da una situazione un po' così particolare.